Puntata di Polifemo del 9 ottobre, ore 21, canale 93 del Digitale Terrestre. Viva la Puglia Channel, l'emittente libera della nostra regione e della nostra città. Una puntata tripartita, una prima parte in cui parleremo di occupazione, parleremo di diritti dei lavoratori di sviluppo economico di questa città. Lo faremo con il coordinatore provinciale di Taranto dell'USB, Francesco Rizzo, e con Irene Giaffreda, componente del coordinamento dell'USB per quanto riguarda teleperformance. Una seconda parte in cui parleremo, un segmento in cui parleremo di solidarietà e di un evento spettacolo, il Titanic concert, emozioni visive. E poi un'ultima parte in cui ci divertiremo, per così dire, con lo sportello del cittadino. Tutte le vostre segnalazioni, questa è la TV libera, la TV senza padroni, la TV dei cittadini, i cittadini potranno dare sfogo, appunto abbiamo raccolto tutte le segnalazioni e le manderemo a raffica. Ricordiamo che la replica di Polifemo andrà in onda domenica 11 ottobre alle ore 14.30. Che dire? Accomodatevi, mettetevi comodi in poltrona, canale 93 del digitale terrestre, l'unica informazione libera della città. E qui, con Polifemo, l'occhio di Abbate, viva la Puglia Channel.